Via Libera, nuovi cantieri in autostrada, scattano a partire da oggi lavori di manutenzione strutturale nelle gallerie terrazze Villa Maria, entrambe in direzione Milano, sulla 9, nel tratto tra Como Centro e la Dogana. Oltre un mese di cantieri in autostrada perché i lavori si concluderanno soltanto il 31 di marzo. Chiusure che provocheranno inevitabilmente disagi anche a Como Città, risentirne dei provvedimenti del cantiere e anche il traffico cittadino. Questa mattina si sono replicate le scene di sabato scorso, auto in coda in autostrada e paralizzata la viabilità ordinaria, traffico in tilt e in via per Sanfermo verso Montolimpino. E intanto in una nota congiunta autostrade per l'Italia e il comune di Como hanno fatto sapere che gli interventi verranno effettuati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per completare nel minor tempo possibile l'intervento che necessita la chiusura continuativa della galleria in direzione sud. La tratta infatti resterà tuttavia percorribile anche in direzione Milano tramite l'installazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Da oggi inoltre sempre sulla 9 per consentire interventi di monitoraggio e dispezione della galleria Monte Quarcino scatteranno delle chiusure notturna fino alla giornata di giovedì 25 febbraio dalle 21 alle 5 del mattino con la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso verso il confine Italo-Svizzero. Di conseguenza sarà chiusa anche l'entrata dello svincolo di Como Centro verso Chiasso. Nella nota di autostrade si legge ancora che saranno regolarmente transitabili i rami di ingresso verso la Enate della A59 tangenziale di Como. Da questa sera inoltre fino a domani mattina sarà chiuso lo svincolo di Como Centro in entrata verso la Enate, mentre nelle tre notti consecutive da martedì a giovedì sarà chiuso il tratto compreso tra l'ago di Como e l'allacciamento con la A59. Infine nel weekend a partire da venerdì e fino alla giornata di sabato 27 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra l'ago di Como e Como Centro verso la Enate.